buonasera a tutti e benvenuti al gran premio torino 2019 allora le prime definizioni che vengono in mente sono quelle legate all'horror naturalmente è stata regina delle tenebre è stata vampira è stata strega amanti diabolica spettro a volte anche se abbastanza raramente è stata persino la fanciulla in pericolo era raro comunque nei negli horror era raro perché barbara stila a una fisicità e una conformazione del viso che l'hanno resa perfetta per quel genere se ci pensate a un viso che è contemporaneamente un ovale perfetto ma anche con occhi enormi con dentro però delle punti aguzze e che quindi ne fanno contemporaneamente un'immagine di estrema possibile estrema ambiguità veramente lei è riuscita a rappresentare apprendere rappresentato col suo volto l'ambiguità del bene e i tormenti del male contemporaneamente io vorrei leggervi velocemente prima di passare la parola ad altri alcune alcune cose che ha scritto un grande dell'horror non solo e non soprattutto cinematografico clive barker lo scrittore e regista va beh clive barker è stato l'inventore dei cenobiti di candy man l'autore di cabal e raiser eccetera eccetera lui nel 97 ha fatto un libro molto 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 bello molto divertente che si chiama ez of horror e una una cosa per lettera e dedica la lettera m a mistress of the night ed è dedicato appunto a barbara steel e scrive su di lei barbara steel fa quello che pochi attrici sono capaci di fare vi fa vedere sia la distruzione che il piacere nello stesso paio di occhi e contemporaneamente cita frasi di registi che hanno lavorato con me con lei scusate come per esempio roger corman nel pozzo il pendolo di cui avete visto un frammento che ha detto c'era profondità in lei in superficie vedevate una bella donna bruna ma al di sotto se guardava guardavate nei suoi occhi potevate scorgere strati su strati qualcosa che potrei descrivere come una specie di mistero esotico oppure riccardo freda ancora una volta i suoi occhi sono metafisici e questa è una definizione bellissima i reali impossibili come gli occhi di un quadro di de chirico ci sono momenti con certe condizioni di luce e di colore che il suo viso assume un'apparenza che non pare del tutto umana e non solo horror però per l'horror barbara steel è stata veramente secondo tutti questi signori ma anche secondo me l'unica icona femminile del cinema horror credo di tutti i tempi ma prima di chiamarla qui e prima di consegnargli il premio vorrei sentire il parere di un esperto di cinema cioè di gianni amelio che è un ammiratore appassionato io penso di essere un esperto di barbara steel prima di tutto oltre che un esperto e considero forse sbaglio che è la prima volta che il gran premio torino va a un'attrice a una donna a una è un attore un attore precedente a un attore donna a un'attrice perché sono stati premiati negli anni scorsi in ordine coppola john burman costurizza aiutami scola scola che l'occhi che si però poi poi aiutami dopo grande direzione della fotografia christopher doyle musicista pino donaggio pino donaggio musicista julian temple julian temple poi vai aiutate aiutatemi io sono stato direttore quattro anni quindi so i miei anni ma non rispondo degli altri ma è la prima volta che il gran premio torino viene consegnato a un attore e io dico un attore no 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 attore attore è un attrice una donna ma è la prima volta che qualcuno che recita è stato premiato l'acting per la prima volta e è una grande cosa è una grande cosa io quando sono nate le videoregistrazioni ho fatto la mia compilation di barbara stiles che ho a casa ancora perché poi l'ho trasformato in dvd e non è questa perché io ho messo anche film che qui non ci sono per esempio un film che forse barbara ricorda perché è l'unico film dove lei aveva i capelli corti 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 come un ragazzo era un tentativo sentimentale ecco e io l'ho amata molto in quel film il film non era bellissimo ma io ho fatto una compilation di tutte le scene dove c'era lei è possibile è possibile e poi ho avuto una gioia enorme quando ho saputo da jonathan che lavorava con lei perché jonathan dammi era un grandissimo mio amico e quindi il fatto in quel film è molto curioso molto strano e la parte molto bella che è molto molto bella io dico che mettiamo da parte un po l'horror perché secondo me anche se noi ricordiamo barbara stile come l'icona dell'horror non solo italiano non solo italiane in assoluto in assoluto nel contemporaneo no lei è stata secondo me in italia la prima e l'ultima grande icona dell'horror però io non vorrei limitare il talento della signora stile all'horror no io credo che lei resterà eterna eterna in otto e mezzo perché otto e mezzo è qualcosa di magico dove la signora stile ha portato tutte le qualità innate che lei possiede come attrice e credo come donna e si sono incontrati lo sguardo di fellini e gli occhi di barbara stile e hanno creato qualcosa di unico che non esiste nemmeno negli altri film di fellini cioè pur non essendo la prima donna del film ci si ricorda molto più di barbara stile che di altre attrici del film perché la l'attenzione la macchina da presa la prende si innamora di lei si 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 chiara che va dietro alla strega e sarà però contemporaneamente c'è un che di infantile nel personaggio di otto e mezzo che poi si legano anche le due cose poi anche nell'horror italiano le bambine hanno sempre qualcosa di inquietante ma anche anche tu in tutti gli oro ma anche in fellini e toby dammiti no toby dammiti c'è una sì ecco quindi io credo che contemporaneamente ci sia in otto e mezzo nel personaggio di barbara stile l'innocenza e la malvagità insieme e però è uno splendore vederla figurativamente è qualcosa che non si dimentica osiamo una cosa estrema che in parte è il corrispettivo di quello che è anita egberna dolce vita sì 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 ma non abbiamo detto una cosa no no non abbiamo osato tanto in otto e mezzo lei è la sì il corrispettivo di anitona e la magia e la magia e la magia e la magia io sinceramente come ammiratore della prima ora di tutti i film di barbara stil sono emozionato e onorato questa sera perché mi hai chiamato forse se non lo sapevi tu l'amore mio per barbara l'immaginavo l'immaginavo e quindi non lo so cosa come continua la cosa continuiamo con noi invitiamo la signora la signora la signora stil vicino a noi barbara e adesso arriva questa cosa molto semplice molto semplice barbara stil si insieme insieme dal for the first time to an actor to barbara stil questo è un ori fantastico inimmaginabile sono proprio non lo so è una cosa fantasmagorica per me se ti sentisci fantasmagorico puoi parlare italiano no no sì 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 thank you but this is thank you so much for inviting me to this fabulous city and this wonderful wonderful this whole occasion of this this fabulous festival and I'm destroyed by seeing my photo all over the entire city this is beyond impossibility I just can't believe it and I think it's a wonderful program a fabulous festival and this beautiful town and I'm my heart is always so full when I come to Italy and it's always an agony to leave it grazie dal profondo del cuore per questo invito che è veramente stato una cosa straordinaria per me è una cosa straordinaria essere anche qui in questa città meravigliosa essere stata accolta da questo festival è un'occasione che davvero mi onora tantissimo e vorrei aggiungere anche che sono sconvolta dal vedere il mio viso che tappezza tutte le strade di questa città è veramente una cosa incredibile quindi grazie ancora il programma del festival è bellissimo la città è bellissima e ogni volta che sono in Italia il mio cuore si riempie e quando devo lasciarla sento l'agonia a questo punto ringraziamo Barbara ringraziamo Gianni e vi lasciamo a un capolavoro la maschera del demonio black sunday in inglese do you want to say something about black sunday? it's up to you no it's up to you ok dico due cose due cose due cioè black sunday la maschera del demonio credo che l'abbia girato con due lire cento lire o qualcosa del genere ed è veramente secondo me il capolavoro horror veramente italiano inizio ancora oggi secondo me sconvolgente che credo sia stato censurato ovunque non solo l'inizio ma in particolare l'inizio dove si vede veramente l'occhio e la genialità di Bava e quanto osava perché osava tantissimo come contenuti sotterranei ma anche moltissimo come contenuti espliciti come scene esplicite per cui è veramente un grande film probabilmente è il migliore in assoluto degli horror italiani credo non so cosa come la pensa Gianni io sono d'accordo con te seguito immediatamente da Casteloblag danza macabra era di Margheriti però l'aveva diretto anche un po' Corbucci perché si usava a quel tempo darsi una mano soprattutto quando c'era la povertà assoluta di mezzi erano film girati in 15 giorni due settimane tre settimane e non si vede soprattutto in questo film di stasera c'è un lavoro di immagine sull'immagine formidabile fenomenale cioè l'ingegno di Bava che era un grandissimo direttore della fotografia maschera in qualche modo la povertà della produzione anzi la maschera tutta ma quella era la grandezza della serie B un po' di tutti vogliamo tradurre un attimo per favore quella era un po' la grandezza della serie B di tutti i paesi appunto riuscire a far fruttare la povertà come fece Valliuton con Tourner fece fruttare la povertà certo e anche gli italiani riuscirono a far fruttare la povertà ma tutta quanta la serie B ha giocato gli italiani avevano secondo me come Jacques Tourner un particolare talento visivo almeno in alcuni dei film perciò sono veramente grandi film aggiungerei anche Operazione Paura Operazione Paura anche i tre volte della paura I just want to say that I loved making these films under this sort of critical time temperature I mean time element mi è piaciuto molto di fare questi film in maniera così corta dieci giorni con questa energia così grande meravigliosa non c'era questo silenzio dove tutta l'energia collapsa quando si fa un film con denaro con money sì allora questa era una cosa così bella e urgente dove tutta la gente ha fatto una connessione favolosa e ho trovato una cosa molto interessante che Roger Corman e Mario Barber erano due uomini è un...quite shy how do you say shy? timidi 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 very correct very correct with the tie very correct very correct e questi due uomini con questo facade così perfetto avevano estro sempre la doppia cosa della vita questo era tutto innamorato di questo altro aspetto nero e questa agonia del negro eccetera eccetera sorry great grazie grazie Barbara grazie Gianni e buon divertimento a tutti thank you grazie